Ciao a tutti, eccomi qui, non potevo non condividere con voi quest'altra bellissima sorpresa, è appena passata da me Chiara Vitale, la mia amica stilista fantastica, mi ha lasciato un pacchettino e quindi lo apriamo insieme, c'è questa bustina, ovviamente Lilla, guardate dentro la Chiara, lo sa che Lilla è il mio colore preferito, e adesso leggiamo, ma non posso leggere ad alta voce perché lo so già che la Chiara poi mi fa scenderla lacrimuccia, e infatti è così, grazie Chiara, quindi non me ne voglio dire, se ne vogliate, ma il bigliettino me lo tengo tutto per me, e apro con voi questa meravigliosa scatolina, tra l'altro guardate c'è il nastrino con la libellula, perché quest'anno la libellula è il simbolo proprio della collezione di Chiara per un buon augurio per il 2021, apriamo questa scatolina, ah lo sapevo, è meravigliosa, guardate che bella, questo è l'anello libellula, è stupendo, guardate un po', ve lo faccio vedere, è bellissimo, davvero che questa libellula possa volare in alto, grazie Chiara è meravigliosa, guardate proprio il colore che c'è qua dietro di me, dietro il mio ufficio è il mio colore preferito, e con questa davvero ringrazio di cuore Chiara, perché oltre ad essere un'amica è davvero una fatina speciale, per me, per tutte le future spose, e per tante tante persone, e ancora vi rinnovo i miei auguri, ma da qua fino a Natale ve li farò tutti i giorni, quindi un bacio grande a tutti, e ancora guardate che bella, questa è la libellula di Chiara Vitale, bacio grande, ciao!